Ma io dico che non sono contenta, non si chiamano, e ha detto come al soldo che i derivati sono di appoggi. Però io non le voglio ricordare, perché non mi piace di quello che si, che doveva uscire, cacciato, non si sa come, perché senza un congresso, mentre di Costa Crucia, eccetera, eccetera, perché chissà che piacere vogliamo fare a Costa Crucia, però se non ci sono associazioni consumatori, come dice Carlo Pirelli, a 4.230, dopo i nomi, e dopo i nomi, riprendi lui, con una reale indipendenza, e allora non andiamo da nessuna parte, perché non vedremo a riempirci la bocca, e adesso ne vedremo di pelle, tutti ci proclameranno di pensione di consumatori, cittadini, organizzazioni, eccetera, eccetera, ma ho avanti, e io quando gli davo un saluto, la questo, la gente ci riding avanti, però è una persona che sentito qui fa, davvero偈 da confederà, nella dicola di funding, di signed Escola di Confedera, che secondo me non è il dono, quindi io quando puisi dà le condividende, possiamo dire, anche lì sono da gattere, non so come possono affrontare, Grazie.